Io sono Marco Bodo, sono dottore commercialista di Torino e oggi sono qui in Skillab per tenere un corso sulla contabilità fiscale di magazzino. È un corso che ha destato molto interesse nelle aziende torinesi, questa mattina ci sono 9 società che sono intervenute per seguire questa tipologia di corso. La mattinata sta andando molto bene, si è instaurato un dibattito con domande e risposte fra gli intervenuti e quelli che sono i docenti, io e il mio collega il dottor Bracaroni. È un corso che si tiene in questa sede ormai da qualche anno e comporta una giornata di lavoro, quindi mattino, pausa pranzo e un rientro nel pomeriggio e il riscontro come vi dicevo prima è molto buono da parte della platea perché oltre ad essere un obbligo fiscale, oltre ad una certa dimensione aziendale è anche ovviamente una problematica quale quella delle rimanenze di magazzino che è molto sentita da parte delle imprese.